Musica Nella morsa del fuoco, notte di incendi in Sicilia dove le fiamme hanno distrutto ettari di macchia mediterranea tra Palermo e Messina, vigili del fuoco in azione per estinguere i roghi, a San Michele evacuate diverse abitazioni Nuova corsa, vecchio cavallo, sarà ancora una volta Giancarlo Cancelleri, il candidato del Movimento 5 Stelle per le elezioni regionali del prossimo 5 novembre L'incoronazione ieri a Palermo da parte di Beppe Grillo e Davide Casaleggio, prima la Sicilia e poi l'Italia, l'obiettivo dichiarato Arriva Coronado, primo acquisto del Palermo, arriva dal Trapani Igor Coronado, attaccante brasiliano atterrato ieri mattina in città Lotteremo per tornare in Serie A, le sue prime parole Zamparini intanto prosegue i contatti con l'imprenditore italo-americano Frank Cascio per la vendita della squadra Buonasera e ben ritrovati ancora una volta con la nostra informazione, avete appena ascoltato i titoli Apriamo subito con un aggiornamento che sta già facendo parlare da tutto il pomeriggio danneggiata a Palermo La statua di Giovanni Falcone, il raid vandalico è stato messo a segno allo Zen davanti l'istituto comprensivo di Via Pensa Bene Nel suo episodio sta ancora indagando la polizia, ce ne parla Cettino Pellitelli Atto vandalico all'istituto comprensivo Giovanni Falcone di Via Pensa Bene, nel quartiere Zen di Palermo Un atentico oltraggio alla memoria del giudice Falcone Secondo quanto riferito dalla polizia, ignoti la notte scorsa si sono introdotti nel cortile del plesso scolastico Ed hanno staccato la testa e un pezzo del busto alla Stato dedicato al magistrato Utilizzandola poi come ariete per sfondare la porta d'ingresso a vetri della scuola A dare l'allarme è stato un bidello che stamani, poco dopo le 7, ha rinvenuto la statua decapitata E ha subito avvertito la direzione scolastica e le forze dell'ordine Sulla vicenda è stata aperta un'indagine Non è la prima volta che Busto viene danneggiato Nel 2012, approfittando del sistema di allarme rotto, i vandali avevano distrutto il naso e scarabocchiata tutta la superficie Dopo aver danneggiato la statua, erano entrati da una finestra e avevano scraventato a terra armadi, cattedre, banchi e sedie Il gesto, che arriva poco più di una settimana dall'anniversario della strage di Via D'Amelio Ha gettato nello sconforto Daniela Loverde, la dirigente dell'istituto Da tempo ha dichiarato, non subivamo atti vandalici Reazione di dura condanna anche da parte delle istituzioni e delle associazioni antimafia Per il presidente del Consiglio Gentiloni, l'oltraggio alla memoria di Falcone è una misera esibizione di vigliaccheria Costerno per Maria Falcone, sorella del giudice, che chiede più sicurezza alle autorità di pubblica sicurezza Mentre per il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, la memoria di Giovanni Falcone non potrà essere scalfita in nessun modo da alcuno Proprio dalla memoria di Falcone, scrive Orlando in una nota, è iniziata la riscossa del popolo italiano e siciliano contro la mafia Ed è stata una notte davvero di fuoco, quella appena trascorsa in Sicilia Diversi roghi che hanno distrutto ettari di macchia mediterranea tra Palermo e Messina I vigili del fuoco sono stati al lavoro incessantemente a San Michele Sono state evacuate delle abitazioni per precauzione Ce ne parla Giorgia Tabita Ancora incendi in Sicilia Vigili del fuoco impegnati nella notte tra Palermo e Messina Per spegnere i roghi che hanno colpito diversi ettari della macchia mediterranea Fiamme nei comuni di Partinico, Bagheria, Carini e Misilmeri Ma anche a Bolognetta, San Giuseppe Iato e Corleone Tra Petralia Sottana e Soprana sono almeno 5 gli ettari di terreno andati in fiamme Mentre intorno alla mezzanotte un vasto incendio è divampato nella zona tra Piano dell'Occhio, Torretta e Monreale Sul posto 4 squadre dei vigili del fuoco Situazione più critica nel Messinese, dove gli incendi hanno divorato ettari di macchia mediterranea Paura invia San Giacchid, una rione annunziata a San Michele sui Monti Peloritani Le fiamme infatti avrebbero lambito alcune abitazioni lì vicine, evacuate per precauzione Per cercare di spegnere il rogo sono intervenuti due Canadair e dieci squadre dei pompieri che hanno lavorato senza sosta Interessata dalle fiamme anche l'area boschiva dei villaggi colinari nord, dove un incendio avrebbe danneggiato due centraline dell'Enel Necessarie per alimentare gli impianti di sollevamento AMAM Che garantiscono l'approvvigionamento regolare dei serbatoi utilizzati dagli abitanti di San Michele, San Rizzo, Castane, Apisciotto e Reginella Non appena è stato possibile però, i tecnici si sono recati sul posto per riparare il guasto Fiamme anche nel Trapanese, dopo un ruogo divampato ieri sera nella zona che sovrasta Maca In una frazione di San Vito Lo Capo, minacciata anche la riserva naturale dello Zingaro Rimasta chiusa per la giornata di oggi e sul posto sono intervenuti naturalmente, come sempre, Vigili del Fuoco e Canadair il servizio C'era da prevederlo, fiamme ovunque in Sicilia, soprattutto nella Sicilia piena di sterpaglie di vegetali Per il gran caldo, per lo scirocco, anche se non è forte, con fortissimi sospetti comunque, sempre del dolo A Macari all'interno di San Vito e Custonaci, fiamme di sterpaglie e vegetazioni Per oltre dieci ore, a poche centinaia di metri dalla riserva dello Zingaro E con intervento di Canadair il Vigili del Fuoco e Forestali Nei giorni scorsi, per la seconda volta, era stata chiusa per motivi precauzionali la riserva naturale dello Zingaro Che è stata adesso appena all'ambita Attualmente non si registrano focolai proprio all'interno della riserva Ma attorno a quanto pare, sì Anche nel Palermitano, fiamme all'interno, nelle zone del Partinicese, nei diversi paesi Con interventi di non poco conto da parte dei Vigili del Fuoco e con rischio anche per alcune abitazioni Diverse ore ci sono volute per spegnere i focolai Che sono scoppiati un po' qui e là per quel che riguarda le zone interne fino anche a San Giuseppe Iato Situazione particolarmente incandescente, pericolosa, con temperature che si manterranno alte rispetto alla media E con un vento di scirocco, anche se leggero, che alimenta le fiamme quando queste scoppiano O per dolo o per motivi naturali Resta il fatto che è altissimo il rischio di incendi, soprattutto nelle zone ad alta densità turistica E cambiamo decisamente l'argomento, parliamo di immigrazione Perché solo nei primi sette mesi del 2017 sono davvero numeri da capogiro Quelli che riguardano gli sbarchi sulle coste del Mediterraneo Sarà discusso il tema domani a Varsavia Per minuti le ONG potranno attraccare sulle coste italiane Ma dopo primi soccorsi i migranti dovranno essere trasferiti nei paesi di origine delle navi Oltre 85.000 migranti sbarcati sulle coste italiane nel solo 2017 Un numero da record che preoccupa molto il governo, soprattutto dopo lo stop alle partenze dalla Libia In vista del vertice che domani si terrà a Varsavia, l'Italia vuole rimanere sulla linea dura Dettando nuove regole per Triton, con la minaccia di uscire dalla missione di salvataggio Il blocco delle partenze dalla Libia è uno stratagemma utilizzato per far accumulare profughi sulle coste libiche In modo da poter utilizzare gli sbarchi di massa come una vera e propria minaccia Un ricatto in piena regola che fa trasparire un altro sospetto I gruppi criminali che controllano il traffico di esseri umani dalla Libia Sono già al lavoro per entrare nei lavori del nuovo centro di coordinamento dei salvataggi La cui nascita è stata sancita dal recente vertice tenutosi a Tallin La richiesta avanzata dal ministro degli esteri minniti per l'Italia Prevede nuove regole o in alternativa l'addio a Triton Le navi delle ONG straniere potranno attraccare sulle coste italiane Ma i richiedenti asilo dovranno essere trasferiti in aereo nei paesi di origine delle navi Una volta concluse le operazioni di soccorso Rimangono da confermare le altre clausole sul centro di coordinamento in Libia E la stesura sempre più urgente di un nuovo corpus di regole per le navi dell'ONG L'Italia aderì a Triton quando Renzi era presidente del Consiglio E all'epoca aveva accettato alcune regole Tra cui quella che dava all'Italia il comando della missione Ma anche l'autorizzazione a tutte le navi di sbarcare sul territorio italiano in condizioni di sicurezza Previsto per domani un incontro nella capitale polacca per la gestione di Frontex In cui si parlerà anche delle eventuali revisioni da attuare sul piano Triton Nei prossimi giorni una pattuglia della Guardia di Finanza verrà inviata in Libia Per monitorare da vicino la situazione Per controllare il fenomeno degli sbarchi e lo status del blocco E per guardare da vicino il lavoro dell'ONG Trattenuto da giorni ad Hamburgo per i disordini registrati nel corso del G20 C'è anche Emiliano Puleo Partinicese di 30 anni Storico militante della sinistra ed esponente di rifondazione comunista Tra gli arrestati della sommossa dello scorso giovedì Ad informare sulla situazione è Eleonora Forenza Europarlamentare di sinistra europea presente alle manifestazioni contro il G20 E anche lei fermata dalla polizia ma rilasciata poco dopo Secondo quanto emerso dalle prime testimonianze Puleo ed altri manifestanti sarebbero stati fermati dalla polizia Non durante le manifestazioni Bensì mentre rientravano in ostello La protesta è esplosa perché i manifestanti dicono no alle politiche dei paesi più ricchi del mondo Il loro motto è solidarietà senza frontiere Invece del G20 E adesso parliamo di politica siciliana Sarà ancora una volta Giancarlo Cancelleri Il candidato del Movimento 5 Stelle per le elezioni regionali del prossimo 5 novembre L'incoronazione ieri a Palermo da parte di Beppe Grillo e Davide Casaleggio Prima la Sicilia e poi l'Italia L'obiettivo dichiarato Lorenzo Anfuso Hanno partecipato alla votazione per il candidato presidente 4.350 iscritti certificati Il candidato alla presidenza della regione siciliana per il Movimento 5 Stelle sarà Giancarlo Cancelleri Taglio agli stipendi dei parlamentari Cancellazione di vitalizie Pensioni d'oro E con le somme ricavate Aiutare le aziende Finanziare le borse di studio per i giovani Sostenere i disabili E ricomprare casa A chi non ne ha più Ricomincia da qui e da Giancarlo Cancelleri La corsa del Movimento 5 Stelle Per prendersi la Sicilia Nelle prossime elezioni regionali del 5 novembre E' arrivato nella serata di ieri il respons delle regionarie Le consultazioni online sul portale Russo Che hanno confermato il geometra nisseno e principale portavoce del gruppo Grillino Lars Nei ultimi 5 anni di Parlamento per la corsa a Palazzo d'Orlean A rincoronarlo candidato governatore lo stesso Beppe Grillo Davanti al bagno di folla del castello a mare di Palermo Un buffone che facevo battute, controbattute Giravo, guadagnavo anche un sacco di soldi Maledetti voi, maledetti voi Io sono l'esempio Di averci rimesso In politica Guadagna più Di Maio di me Questo non mi fa giù Presenti sul palco anche l'altro leader del Movimento Davide Casaleggio E il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio Che ha puntato lo sguardo più avanti Stasera apriamo la fase 2 del Movimento La fase del Movimento 5 Stelle al governo della regione e della nazione O cambiamo o emigriamo Per me non ci sono più mezze misure Si chiama Nobilissima Vergine Ed è il gioiello realizzato per la matrona di Palermo Santa Rosalia Creato dalle mani dell'orafo Emanuele Gian Bertone Il dono dedicato alla Santa verrà presentato mercoledì pomeriggio alla biblioteca del Capoluogo Giorgia Tabita Verrà presentato mercoledì alla biblioteca di Palermo Nobilissima Vergine Il gioiello realizzato dall'orafo artigiano Emanuele Gian Bertone Come omaggio a Santa Rosalia La creazione dedicata alla matrona della città Frutto di un lavoro durato mesi Verrà poi esposta in modo permanente Presso l'antica gioielleria Gian Bertone In corso Vittorio Emanuele Il nostro contributo Per quanto riguarda il mio laboratorio È la creazione di un gioiello specifico per Santa Rosalia In corallo sarà realizzato in stile antico Ci sarà una miniatura della Santa realizzata da me a mano Imposta al centro del gioiello Questo gioiello verrà presentato mercoledì A una conferenza che si terrà alla biblioteca E verrà presentato insieme ad altri argentieri di Palermo Che hanno realizzato l'urna per Santa Rosalia E io che sono devoto della Santa E anche orafo del Cassaro Alto Unito all'associazione Cassaro Alto Faccio il mio omaggio alla città e alla Santa Con questa creazione E non è una cosa di tutti i giorni Io sono credente C'è anche un'enfasi particolare Per me è un onore di contribuire Insomma dare il mio contributo alla città E alla santuzza, alla protettrice della città E' atterrato nel capoluogo il primo possibile acquisto del Palermo Si tratta del brasiliano Igor Coronado Ex Trapani Sul fronte societario Zamparini prospetta una nuova trattativa Questa volta è il ritorno di fiamma Con l'italo-americano Frank Cash Partito il mercato del Palermo in queste giornate Nel post Baccaglini Mentre si ipotizza un'indagine D'anni del presidente Maurizio Zamparini Per reati contro il patrimonio Fa la sua comparsa all'aeroporto palermitano Il primo acquisto della squadra cittadina Igor Coronado Brasiliano attaccante del Trapani E ora prossimo all'ufficialità con il Palermo In Sicilia mi trovo bene Ha dichiarato l'arrivo in città Ho scelto il Palermo perché una squadra conosciuta in tutto il mondo E che lotterà per tornare in Serie A Non l'ho trovata con il Trapani ma sono venuto qui per questo Nel frattempo si apre anche una possibile trattativa Per la cessione della squadra a Frank Cash Italo-americano a capo di una cordata di investitori statunitensi Che già si erano interessati al Palermo Prima dell'entrata in scena di Baccaglini Zamparini torna a trattare con Cash Dopo la delusione del mancato closing E ora delle indagini della Guardia di Finanza In un comunicato Zamparini ha voluto smentire Tutte le accuse mosse dalla stampa e dall'opinione pubblica Che lo vedevano col peole del reating Di cui si sta occupando la magistratura Ma anche di non tenere più la squadra Non ho mai considerato il Palermo il mio giocattolo Un soggetto che ha sottratto al tuo patrimonio 70-80 milioni di euro Non può essere un giocattolo Ha scritto Zamparini Sto cercando con difficoltà investitori in Italia e all'estero Gente che dovrà assicurare investimenti come feci all'inizio Il patron friulano ha dichiarato risentirsi stanco alla sua età Per poter guidare una società come il Palermo Sta quindi cercando di vendere la squadra Finora però senza risultati Intanto nei prossimi giorni Il Palermo partirà per il ritiro in Austria Contedino e Lupo rispettivamente i nuovi allenatore E direttore sportivo E questa era l'ultima notizia con lo sport Si chiude anche questa edizione Vi ringrazio naturalmente per averci seguito Vi lascio adesso a una breve selezione di notizie dall'Italia e dal mondo A seguire il meteo Arrivederci Inquietante atto di vandalismo a Palermo Decapitata la statua di Giovanni Falcone Che si trova davanti alla scuola Falcone Borsellino La testa e parte del busto del monumento Dedicato al magistrato ucciso dalla mafia Sono stati usati poi come ariete Per sfondare il portone della scuola Sulla vicenda è stata aperta un'indagine Già nel 2012 La statua di Falcone era stata bersaglio dei vandali Il caso dello stabilimento fascista di Chioggia Teatro di espliciti gesti, arredamenti e propaganda fascista Da parte dei gestori Il prefetto di Venezia sollecitato da Lampi Ha ordinato l'immediata rimozione di ogni riferimento al fascismo E il tema oggi è anche al centro del dibattito politico In aula alla Camera la proposta del PD Che introdurrebbe il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista Norma liberticida, obiettano i 5 Stelle Liberticida era il ventennio Almeno la storia Twitta Renzi Trovata morta a Milano all'interno di un appartamento Una colf 35enne di nazionalità rumena Sul corpo diverse ferite d'arma da taglio Ancora non chiaro se si tratti o meno di omicidio Ma nessun elemento farebbe propendere per un suicidio Calcio mercato Due colpi in un giorno per l'Ellas Verona Accordo fatto con Antonio Cassano Che nelle prossime ore firmerà il contratto annuale Già ufficiale l'arrivo da Alessio Cerci Da oggi in ritiro con i compagni Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento previsionale da Claudia Fasola di Trebimetio Vediamo grazie alle nostre immagini dinamiche il tempo previsto martedì L'alta pressione rinnova il suo interesse soprattutto sulle regioni centro-meridionali Portando una certa stabilità e temperature alte Diversa la situazione per le regioni del nord Italia Una lieve rinfrescata per via di correnti occidentali meno calde Che porteranno dei temporali pomeridiani su Alpi e Prealpi Ma vediamo nella prossima immagine la cartina della nuvolosità Che ci riconferma quanto detto E dunque una certa variabilità su Alpi e Prealpi E vediamo nel dettaglio martedì Che cosa succederà Cieli in gran parte soleggiate al centro e al sud Italia Anche sulle pianure settentrionali Con una certa variabilità invece su Alpi e Prealpi Con temporali pomeridiani Temperature sempre alte Soprattutto per le regioni centrali Su quelle meridionali un po' meno intensa Invece le temperature al nord Italia Anche se rimarranno sempre calde E con questo è tutto Per avere maggiori informazioni sulle singole località Scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo Grazie a tutti Autore dei sovrapposti